La scuola materna via Giovanni XXIII qui a Tortoreto quest'anno chiuderà prima il 6 giugno perché ci saranno dei lavori? Sì, anche la scuola materna ha beneficiato del contributo di 390 mila euro circa per l'adeguamento sismico e quindi data la durata dei lavori prevista da capitolato ma anche appena di decadenza del finanziamento stesso, quindi di 90 giorni, oltre chiaramente poi il collaudo eventuali e scongiurati, speriamo imprevisti, non è sufficiente il periodo di normale chiusura, quindi i due mesi della pausa estiva e quindi siamo costretti ad anticipare la chiusura della materna che regolarmente cessa il 30 giugno al 6 giugno quest'anno. Lo abbiamo fatto, come ripeto, per consentire lavori, lo abbiamo fatto in assenza di alternativa per consentire parimenti le attività dei bambini in altro sito, in altro luogo che non abbiamo. Lo abbiamo fatto anche in considerazione che la scuola materna ha già terminato l'attività didattica, hanno terminato le recite e quindi i lavori di fine anno e quindi abbiamo pensato che fosse preferibile anticipare la chiusura piuttosto che andare poi a protrarre il periodo di reingresso a scuola a settembre.